Giovani, naturalmente certo c'è un rapporto, è stata la scoperta, era la reazione a quell'Ottocento che in qualche modo mi si era trasmesso con tutta quella noia e quella polvere, perché è chiaro che comunque a un certo punto tu immagini sempre che tutti questi che hanno fatto l'Italia fosse tutta gente appunto con ste barbe, in realtà invece appunto leggendo veramente le cose come erano e quindi pronti a farsi male, perché bisogna essere pronti a farsi male a leggere la nostra storia, però facendosi del male si capiscono anche tante cose di oggi come si lanagano, stai male, cosa fai? Va dall'analista e quello che fa comincia a scavare il tuo passato, quindi non è diverso per un paese ma è diverso per noi tutti, quindi è chiaro che molti dei nostri disagi vengono fuori da quei traumi originali e dalle rimozioni di quei traumi, quindi bisogna essere pronti a farsi del male, però ti fai del male, però ti viene incontro a qualcosa di così vivo, di così forte, vedi appunto questi erano dei ragazzini, cioè come tutti erano appunto cazzini quando erano capo della giuvalidità nel momento più potente eccetera, ma avevano meno trent'anni, cioè erano veramente, allora senti questa fredda, questo poi vale per tutto, vale per gli artisti, per i musicisti, che appunto pure là, insomma, se uno capisce le persone che hanno anche creato in quel tempo, come creavano, quanti anni avevano, con che febbre, diciamo, allora improvvisamente tutto diventava, tutto diventa più forte, quindi certo, naturalmente i protagonisti che noi credevamo sono giovani, poi invecchiano nel tempo, diciamo perché l'arco narrativo è lungo, ma all'inizio sono giovani, l'idea di fare un film su Deopardi voleva mettere al centro il fatto appunto, il Giovane e Favoloso è un'espressione meravigliosa di Anna Maria Ortese, abbiamo trovato il racconto di Anna Maria Ortese, e appunto a un certo punto si sta a Napoli e fa questo racconto, visita la tomba di Deopardi, un giorno mi sono decisa di andare un certo giorno eccetera, andare a, così, dove è seguito il Giovane e Favoloso, così era questa espressione, è un'espressione molto precisa su Deopardi, perché è proprio la favolosità della sua immaginazione, appunto, dico io, teatrale, in un senso ampio, diciamo, ecco, e appunto, e che cos'è, diciamo, ci sono i critici, le persone a cui non piace Leopardi, ce ne sono naturalmente, è giusto che ci siano per qualunque artiste, dunque anche per Leopardi, ci sono per Proust, però le persone che non amano Leopardi spesso non amano proprio, no, dicono roba da adolescenti, ecco, in una maniera un po', che è in quanto mai vero, cioè nel senso che è verissimo che, diciamo, ciò che in Leopardi parla e vibra è una sorta di eterna adolescenza, fino alla fine, fino a quando muore, insomma, per te, per te, per te, per te, e quindi, perché è una disposizione, è un forzarsi a tenere l'anima aperta, cioè a non chiuderla, a non accettare le convenzioni, i conformismi, no, tutte le cose contro cui Leopardi, diciamo, confligge non soltanto con quello che scrive, ma anche ciò che vive, da ciò era bello fare il film.